ciao vergine benvenuta andiamo un po a vedere cosa ti sta per accadere chiediamo alle mie carte agli oracoli e ai tarocchi quali novità vedono arrivare cosa c'è in vista aperti partiamo dagli oracoli questi sono miei a tutti gli effetti nel senso che come vedi li ho creati se sei interessato a queste carte trovi le info giù nella descrizione del video oppure puoi richiedere informazioni scrivendo una mail a le carte di penelope chiocciola gmail.com ma partiamo andiamo a vedere per il segno della vergine cosa sta per accadere per il segno zodiacale della vergine cosa sta per accadere ovviamente non do tempi quindi questo video avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai ok qui ci sono delle notizie e sembrerebbero abbastanza inaspettate perché guarda come sgrana gli occhi questa questa ragazza davvero a parte di scherzi il senso non è la sorpresa o non sorpresa ci sono altre carte che mi indicano una sorpresa però ci sono delle notizie che arrivano e qui potrebbero farti piacere ma andiamo per gradi vediamo per la vergine quindi notizie comunicazioni che arrivano aiuto ok l'indipendenza e come vedi qui fanno vedere proprio la lo sfarzo se vuoi anche un po il benessere di questa persona no quindi sembrerebbero parlare di un'indipendenza proprio anche economica pratica proseguiamo per il segno zodiacale della vergine i desideri qui c'è un desiderio che si avvera vergine qui c'è un desiderio che si avvera fosse anche solo dal lato proprio dal lato proprio economico o comunque pratico qui c'è un qualcosa che si avvera guarda com'è bella questa carta qui c'è un desiderio che viene espresso e che viene esaudito ok quindi io già da queste prime carte mi parlano di denaro di denaro in arrivo di un incremento nei suoi guadagni se vuoi ok un incremento nei suoi guadagni denari in arrivo delle comunicazioni che arriveranno e potrebbero guarda anche essere delle comunicazioni economiche finanziarie cioè un delle comunicazioni che ti ti comunicano ecco di questo miglioramento di questa cosa quindi carte molto positive fin qui è allora per il segno zodiacale della vergine cosa sta per accadere andiamo a vedere un po le novità per la vergine cosa esce cosa sta per accadere il sette di bastoni mettiamole per così spero che si vedano un po meglio mettiamole qua o se no facciamo così forse così le vedete meglio vediamo no così ok allora il sette di bastoni cos'altro per la vergine cosa sta per accadere al segno zodiacale della vergine quindi il sette di bastoni lotto di lotto di coppe lasso di denari io credo che qui ci sia la compensa per la ricompensa per tutti i tuoi sforzi per il lavoro che hai fatto hai superato un periodo abbastanza insomma durettino il 6 di spade per il segno zodiacale della vergine mi scivolano di mano per il segno zodiacale della vergine cosa sta per accadere una carta ancora scelgo io scelgo io allora me la fila vedi quando gli dico scelgo io il 10 il 10 di denari beh io direi che l'asso di denari il 10 di denari con la carta delle indiferenze dipendenza siano abbastanza chiare allora qui c'è senz'altro una somma di denaro che arriva ok quindi magari proprio una somma una tantum ma qui ci vedo anche il lavoro ci vedo anche il lavoro che ti porta del discreto denaro e che ti può aiutare naturalmente ad esaudire un qualche tuo desiderio quindi a un concederti un qualche lusso in più a un comprarti un qualcosina in più e via andare però qui tutte le carte mi parlano proprio anche di notizie che arrivano di comunicazioni che arrivano molto molto positive ora io qui ci vedo sicuramente il lavoro il lavoro che attraversa attraverserà un momento molto favorevole molto favorevole economicamente ma anche dal punto di vista proprio tuo delle tue ambizioni qui c'è un desiderio che si realizza ed è un desiderio su questa indipendenza qui cioè capito quindi qui tu arrivi veramente a renderti indipendente dagli altri se tu sei dipendente da qualcuno mi potrebbero le carte anche parlare di un lavoro tuo di libero professionista per esempio no indipendente in questo senso quindi tu lavori per conto tuo qui ci può essere anche una come dire una novità che tu decidi di inserire nel tuo lavoro se non lavori per età o per altri motivi a parte che tu lo potresti trovare quindi qui se tu lo cerchi se lo desideri un lavoro qui tu lo trovi qui c'è proprio una ricompensa ai propri sforzi quindi se tu ti impegni tu ti dà da fare o ti sei dato da fare a mandare curriculum o comunque a chiedere eccetera no qui c'è proprio la comunicazione le notizie che potrebbero arrivare potrebbero parlare proprio di questo ok quindi guarda anche qui di nuovo i denari qui c'è una somma di denaro in più che arriva quindi forse tu c'hai anche un altro introito da un'altra parte da un qualche altro lavoro da un qualche altro gettito diciamo fatto sta che qui i denari ci sono e non sono pochi o comunque sono soldini e insomma ti fanno ti faranno ti doneranno la tranquillità all'indipendenza ora io da tutte queste arte di vergine ti vedo anche a parte si vedo muoverti io un soldo tu vai qui tu ti muovi tu vada qualche parte guarda la regina di denaro qui c'è un botto ora no ora non vi voglio illudere un botto di soldi non si può dire però se qui sono tutti i soldi denari dappertutto capito sono tutte carte molto positive molto belle per quanto riguarda proprio il denaro ti ripeto il denaro che arriva anche in modo inaspettato boh io lo so o tu decidi di fare un qualcosa in più di diverso che ti porta più entroiti io lo so qui vedo un'entrata di denaro o comunque magari tu fa più un lavoro cioè tu lavori di più c'è un qualcosa in più che tu fai capito che ti porta questa entrata di denaro ma ancora qui ti vedo passare dei momenti insomma tranquilli in famiglia in casa eccetera eccetera ma anche proprio dal punto di vista a come si può dire economico qui c'è proprio un godersi anche no quello che si fa guarda non escludo vergine che qui tutti potresti addirittura siccome continua a vedere questo viaggio io questo viaggio spostamento è un viaggio alle mauridius capito uno spostamento diciamo qui tu potresti anche e vedo il verde tu potresti anche decidere di recarti da qualche parte non so penso a una fattoria un agriturismo capito nel verde nella natura io si vedo lì capito nella natura e qui io io vedo tutti questi sordi vergine qui da qualche parte arrivano io non so i che ditti io li vedo guarda ci potrebbe anche essere chi cambia la macchina non so se tutti compri la macchina nuova perché ti vedo firmare o bella 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 questa carta il papa e il sette di denari altra volta c'è ragazzi io qui no 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 qui c'è qui c'è qualcosa che arriva delle notizie un qualcosa di wow che arriva poi questo asso di denari la dice lunga è la dice lunga quindi questa entrata di denaro che che arriva una qualche sorpresa perché arriva un qualcosa in più se hai un qualcosa in ballo con qualcuno litigio un qualcosa è qui veramente tu potresti andare a sistemare le cose trovare un accordo firmare un accordo riaprire comunque le trattative con qualcuno se tu sei in ballo per un qualcosa di questo tipo ti vedo prenderti cura di te quindi sicuramente tutti prenderà cura del tuo corpo della sua apparenza ha visto quindi non so deciderà di farti bella in un qualche modo eccetera eccetera ma qui vedo molta anche molta comunicazione comunicazioni comunicazioni notizie parla qui c'è proprio il parlare il parlare proprio la parola la parola che dire quindi questo movimento guarda potresti fare anche un viaggio in famiglia c'è tutta la famiglia che si sposta oppure ritrovarti insieme con qualche membro di famiglia ha visto con dei membri della sua famiglia ritrovarti insieme festeggiare un qualcosa boh insomma ecco questo questo è non escludo che tu incontri anche il tuo amante se tu c'ha un amante quindi qui ci potrebbe essere un incontro con questa persona andiamo a vedere segni zodiacali quindi insomma qui ci sono degli avvenimenti futuri molto positivi per te in special modo dal punto di vista economico economico o comunque un qualcosa un qualche tuo progetto un qualche tuo sogno che si realizza il prendersi cura di te poi ci può essere alcun momento in cui a parte ti vedo parlare 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 ma anche colloquiare con qualcuno con cui poi tu potresti arrivare ad un accordo a un metterti d'accordo su un qualcosa per un qualche cosa capito vergine allora io vedo lo scorpione con quali segni avrà a che fare la vergine quindi in questo periodo andiamo a vedere chi è volato il toro scorpione toro scorpione toro leone il segno dell'acquario il toro che viene confermato i gemelli con quali segni zodiacali avrà a che fare la vergine in questo periodo il cancro la vergine anche la bilancia e il capricorno l'avevo detto no quindi aggiungiamo anche il segno del del capricorno questo è quindi dimmi un pochino vergine qui che cosa che cosa tu vedi qui c'è uno spostamento quindi un viaggio uno spostamento da qualche parte non te lo lea nessuno fammi sapere dove tu vai va bene un bacione al prossimo video ciao vergine eccoci qua vi lascio ai miei vi no vi lascio ai miei vi danno come siamo o